Ciao ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo video molto psichedelico. La cosa che vi chiedo è di seguire il movimento delle mie mani e il suono della mia voce. E sarà un video diverso dal solito e devo ringraziare Lori ASMR e soprattutto una sua fan, perché questo è un regalo che è stato fatto da una sua fan nella sua lista Amazon, ma essendo i guanti troppo stretti, me li ha dati a me. E ho colto appunto la palla al palzo, anche perché secondo me è un video molto, molto, molto rilassante. La mia soffia wild. Si trasforma in una esperienza ipnotica. Liberate la mente. E pensate solo a pensieri positivi, pensieri che vi facciano stare bene. Non permettete ai pensieri negativi di entrare nella vostra testa. cercate di riconoscere le persone negative che vi stanno accanto e allontanatele. non badate del giudizio della gente e pensate sempre a fare ciò che vi piace e che vi rende felici al 100, 100, 100, 100. 100 per cento. Siate sempre, 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 sempre voi stessi in qualsiasi occasione. sul posto di lavoro, con la fidanzata, a scuola. non nascondete mai a nessuno chi siete veramente. cercate sempre di esprimere la vostra opinione. quando pensate sia giusto, ma soprattutto quando le persone si approfittano della vostra bontà. nelle avversità chiedete sempre chiedete sempre aiuto chiedete aiuto perché è fondamentale chiedere aiuto alle persone a cui vogliamo bene non pensate non pensate che ce lo potete fare sempre da soli perché a volte una parola in più di un amico della mamma della mamma della sorella è fondamentale fondamentale per tirarci per tirarci sul morale perché loro sono le persone che ci conoscono che ci sono Il pensiero positivo Il pensiero positivo porta a situazioni positive, non ve lo dimenticate mai, cercate sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno. Non dimenticate che in fondo al tunnel c'è sempre la luce. Eccola qui. E questa luce la dovete cercare sempre, anche nei momenti bui, perché la luce ce l'abbiamo dentro di noi. Non dimenticatelo che tutti, 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 tutti a nostro modo siamo persone speciali. Tu sei speciale, sei speciale, non te lo dimenticare, sei speciale. E non devi far spegnere mai questa luce. Ricordatelo sempre. Ricordatevi sempre di non trascurare le persone. Le persone che vi vogliono bene, la mamma, il papà, loro sono le persone che ci hanno dato la vita. Quindi, ricordiamoci che anche nei loro momenti tristi, loro hanno una persona alla quale fare affidamento, vero noi? E in generale, ragazzi, cerchiamo di amarci l'un con l'altro. Cerchiamo di essere gentili col prossimo, perché c'è già abbastanza sofferenza. Lo so che sembrano tutte frasi fatte. Ma in realtà, le penso veramente, perché voglio credere e sperare in un mondo migliore per tutti. Spero davvero che queste mie parole ti possano far star bene, che ti abbiano rilassato la mente, fatto ragionare. Mi raccomando, ragazzi, non scordatevi mai, 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 di quanto valete, perché voi valete tanto. Non lasciatevi mai abbattere da nessuno, da nessun giudizio altrui. E siate forti se dovesse succedere. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, vi abbia rilassato. A me è piaciuto un sacco. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Grazie, 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 grazie. 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 importantissimo, ma veramente tanto, per il supporto che mi date tutte le volte. Ora, come sempre, vi chiedo solo una cosa, di afferrare un pensiero positivo. Eccolo qua, un pensiero luminoso, un pensiero che vi faccia star bene, un pensiero che vi faccia rilassare. Tenetelo stretto, questo pensiero. Stretto. E ora liberate la mente. Chiudete gli occhi e addormentatevi serenamente. Buonanotte, ragazzi. Buonanotte. Grazie a tutti.